Sta andando questo governo rispetto al precedente nella percezione degli elettori così come si evidenzia dal nostro sondaggio settimanale. Vedete, i governi Draghi e Conte 2 a confronto. La domanda, facendo un confronto tra questo primo periodo del governo Draghi e l'operato del governo Conte 2, nel complesso direbbe che non c'è particolare differenza, non saprei, il 62%. È più efficace il governo Draghi, 21%. È stato più efficace il governo Conte 2, 17%. Ma in realtà, come vedete, a influenzare molto l'esito di questo sondaggio è quello che pensano gli elettori del Movimento 5 Stelle, per i quali non c'è proprio confronto. Come vedete, si stava meglio quando c'era lui, si potrebbe dire. 57% degli elettori del Movimento 5 Stelle resta legato all'esperienza del Conte 2. Solo il 9% dice che è più efficace il governo Draghi. Mentre, come vedete, da questo punto di vista, pur essendo molto forte l'idea che non ci sia una grande differenza, se mai, se c'è una preferenza inefficace per l'attuale governo, c'è in misura uguale tra gli elettori di Partito Democratico, Fratelli d'Italia, che è all'opposizione, e Lega. Andiamo a vedere però l'altra domanda, l'altro quesito che abbiamo fatto. Il confronto su alcuni aspetti. Nello specifico, quale dei due governi ritiene più efficace su questi aspetti? E qui vedete che è più efficace il governo Draghi, secondo chi ha risposto al sondaggio, per capacità di dialogare con gli altri paesi europei, per gestione del piano vaccinale, per coesione all'interno del governo, per i piani per la ripresa economica, e per la qualità della squadra di governo. In questo, come vedete, c'è una prevalenza sempre netta per il governo Draghi, anche perché c'è un'ampia base di consenso a livello parlamentare e quindi anche va nel Paese. Poi però si ritiene che nella comunicazione con i cittadini, e qui evidentemente entra l'esperienza diretta di Conte, che vedete 44%, nelle misure di contenimento dei contagi, 25 a 19, e nell'erogazione dei ristori per le attività danneggiate, c'è una preferenza per l'efficacia del governo precedente. Si dice però, soprattutto per le ultime due risposte, che per il 56%, come vedete, non c'è differenza.